Cos'è Kaibak? È fatto da persone veramente speciali che sono coinvolte tantissimo emotivamente nel progetto Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 La prima cosa che mi viene in mente è con la parola calma, Kaibak Kaibak ti devo dire, non lo so La prima cosa che mi viene in mente è con la parola calma, Kaibak